Ben ritrovati, con i nostri migliori auguri di un buon 2021 apriamo questa nuova puntata di Avevamo 20 anni. Per i saldi dell'inverno 2021, appuntamento sempre molto atteso dai consumatori, la regione Emilia-Romagna ha cambiato le regole. Ne parliamo con Fabrizio Ghidini, presidente di Feder Consumatori Parma. Quest'anno in Emilia-Romagna i saldi invernali non inizieranno come di consueto a inizio gennaio. L'anno scorso erano iniziati il 5 gennaio, ma inizieranno il 30 gennaio e saranno preceduti da un periodo di vendite promozionali. Questa è stata una decisione che ha assunto la regione Emilia-Romagna contro l'opinione delle associazioni dei consumatori che ritengono questa misura lesiva dei confronti dei consumatori, nel senso che si introducono elementi di incertezza, elementi di possibile abuso da parte di alcuni commercianti e di fatto si svuota il valore e l'importanza della stagione dei saldi che è attesa da tantissimi consumatori. Per fare un esempio, molti consumatori potrebbero pensare di trovarsi di fronte a dei saldi, invece sono promozioni. Quali sono le maggiori differenze tra le vendite promozionali e i saldi? Ne citiamo una, forse la più importante. Nei saldi è possibile vendere solamente le merci dell'ultima stagione, mentre invece nelle promozioni no. Il venditore, il commerciante può mettere in promozione anche delle merci, pensiamo a vestiti o scarpe, delle stagioni precedenti. Inoltre i saldi sono vincolati a una normativa di legge più rigida anche in termini di controlli. Il rischio è che davvero quest'anno i saldi vengano svuotati da un periodo di promozioni che ha dei contorni piuttosto incerti. Siamo consapevoli che il commercio tradizionale e le vendite a dettaglio sono in difficoltà. Pensiamo però che non siano queste le strade per rilanciare questo settore. Il rischio è che a fronte di elementi di non chiarezza, dove i vantaggi diventano difficili da percepire, la gente ancora di più si rivolga al commercio online che è in fortissima crescita. Quindi, cosa è importante sapere per i consumatori, che a partire dai primi di gennaio non ci saranno i saldi, ci saranno vendite promozionali che sono una cosa diversa, per cui occorre fare particolare attenzione e chi vuole aspettare i saldi dovrà aspettare il 30 di gennaio. Luca Cappellazzi del patronato Inca approfondisce oggi il tema delle pensioni ai superstiti. La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in favore dei familiari al decesso del pensionato oppure del lavoratore assicurato. Nel caso di decesso del pensionato, la pensione ai superstiti si chiama di reversibilità ed è pare una quota percentuale della pensione del Dante Causa. Nel caso invece del decesso del lavoratore assicurato, la pensione ai superstiti prende il nome di indiretta ed è riconosciuta nel caso in cui il lavoratore abbia perfezionato almeno 15 anni di anzianità contributiva o 5 anni di anzianità contributiva di cui almeno 3 negli ultimi 5. Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti, il coniuge all'unito civilmente, il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia interiore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. I figli minorenni alla data del decesso del Dante Causa, i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso indipendentemente dall'età, i figli maggiorenni studenti fino al 21esimo anno di età che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabile ai corsi scolastici, i figli maggiorenni studenti universitari fino al 26esimo anno di età che frequentano l'università. In assenza del coniuge e di figli possono avere diritto i genitori del Dante Causa, che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65esimo anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del deceduto, i fratelli celibi e le sorelle nubili del Dante Causa che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione e siano a carico del deceduto. La pensione di superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe aspettata l'assicurato deceduto. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure. Coniuge solo 60%, coniuge un figlio 80%, coniuge e due più figli 100%. Esistono poi altre aliquote di reversibilità qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli e sorelle. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono accumulabili con i redditi del beneficiario, coniuge, genitori, fratelli e sorelle, ma al raggiungimento di determinati limiti di reddito ci sarà una decurtazione della reversibilità del 25-40-50%. I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili. In caso di un decesso di un pensionato o di un lavoratore, invitiamo i familiari a contattare il patronato Inca per avere una prima consulenza in merito e fissare un appuntamento per verificare la possibilità di inoltrare la domanda di pensione ai superstiti. Con Monica Costa di SERCOP CGL parliamo della nuova dichiarazione ISEE. La scadenza dell'ISE è fissata al 31-12-2020. Dal 1 gennaio 2021 è possibile richiederne il rinnovo, primo passo per ottenere bonus, prestazioni sociali agevolate o per continuare a fruire di quelle già in essere. I dati relativi al reddito da dichiarare sono riferiti all'anno d'imposta 2019, mentre la situazione patrimoniale, cioè relativa a investimenti e ad immobili, deve essere fotografata alla data del 31-12-2019. Saldi, giacenze medie e prospetto investimenti riferiti al 31-12-2019, ripeto, sono già disponibili presso banche e poste. Ci raccomandiamo dunque di richiedere la documentazione per tempo e produrre al CAF le dichiarazioni che ogni istituto di credito ha predisposto ai fini ISEE, così da evitare pratiche sospese o mancanti di dati come spesso è successo nel 2020. Il calcolo ISEE può variare a seconda del beneficio che si vuole richiedere, è dunque necessario essere precisi nella richiesta. All'ISEE ordinaria, infatti, valida per quasi tutte le prestazioni economiche, sono affiancate l'ISEE socio-sanitaria o socio-sanitaria residenziale, utile per richiedere prestazioni per persone non autosufficienti. l'ISEE universitaria, utile per la richiesta di benefici per il diritto allo studio e l'ISEE minorenni, utile in caso di richiesta di agevolazioni su asili nido, rette scolastiche o mense. Fondamentale, inoltre, in questo difficile momento storico, è la possibilità di richiedere l'ISE corrente, cioè un'ISEE nella quale viene sostituito il reddito 2019 utilizzato nel calcolo ordinario con quello più vicino alla situazione attuale, quindi degli ultimi 12 mesi, in modo da evidenziare variazioni reddituali, ovviamente peggiorative, per il nucleo familiare e facilitare l'accesso ai benefici. Il nostro call center, che risponde al numero 0521 297 888, sarà operativo dal 7 gennaio per fissare gli appuntamenti a Parma e provincia per la richiesta del nuovo calcolo ISEE. Approfondiamo ora con Lisa Gattini, segretaria generale della CGL Parma, il patto per il lavoro e per il clima siglato nelle scorse settimane tra la Regione Emilia-Romagna e tutte le Forze Sociali. È recentissima la firma di un documento in Regione, il nuovo patto per il lavoro e per il clima, che è stato siglato da più di 50 soggetti, soggetti istituzionali, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali. È un documento che conclude un percorso molto lungo, durato quasi un anno, in cui tutte le parti si sono confrontate per determinare quali sono le linee di indirizzo per lo sviluppo del territorio emiliano-romagnolo e quindi di tutte le sue province e lo sviluppo materiale e anche sociale di tutti i cittadini di questa Regione, che sono lavoratori e non. Questo patto è in continuità per certi aspetti con i patti che sono stati siglati precedentemente, penso a quello analogo del 2015, ma dei contenuti innovativi e diversi, dovuti anche al fatto che nel corso del 2020 ovviamente c'è stata la pandemia che in qualche modo ha interagito con l'elaborazione del patto che da un certo punto di vista è una risposta alla crisi, infatti prodotta dalla pandemia sotto il profilo economico, anche occupazionale, ma dall'altra traccia delle linee di indirizzo che traguardano molto oltre la crisi contingente. Le quattro macro aree, le quattro sfide che ci siamo dati tutti, organizzazioni sindacali in primis, sono la sfida demografica, la sfida dell'emergenza climatica, la trasformazione digitale e la sfida del superamento delle disuguaglianze di genere generazionali, vorrei dire, e anche territoriali. Siamo il paese più vecchio del mondo dal punto di vista dell'età anagrafica dopo il Giappone. Questo è una cosa bellissima se si pensa quanto la vita e quanto ha progredito nell'età media, però dall'altra parte impone in futuro di ripensare completamente un sistema di welfare che parte dall'elemento previdenziale fino all'elemento più basico sui territori che è come definire e strutturare una rete di servizi sociosanitari, per esempio, ma semplicemente anche di servizi sociali che possano corrispondere alle esigenze di una cittadinanza diciamo molto più che adulta. Finché lo vediamo, per esempio, nelle aree urbane ha una certa connotazione, ma non è un caso che questo patto si occupi anche di questo tema nelle aree, per esempio, interne, nelle aree più periferiche, dove determinati servizi non ci sono o sono ancora anche nella nostra regione estremamente limitati. Poi abbiamo l'emergenza climatica. è sotto gli occhi di tutti che cosa comporta il cambiamento di clima. Ci stiamo abituando, però dovremmo anche abituarci, noi crediamo e lo crediamo in questo patto, a immaginare un sistema produttivo diverso che sia più rispettoso del clima, della natura e che sostituisca progressivamente una produzione a idrocarburi con una produzione con energie maggiormente sostenibili. Fare questo tipo di trasformazione non è semplice perché significa stravolgere, rivoluzionare un sistema produttivo che è vincente ancora al momento in Emilia-Romagna e che comporterà nella sua trasformazione delle trasformazioni sia di produzione di filiere, di metodologie, ma anche di organizzazione del lavoro. Ma è un passo dovuto per noi e per le generazioni future. Le altre due temi molto importanti sono la trasformazione digitale, rendere l'accesso alla rete democratico, quindi accessibile a tutti. Abbiamo visto quanto è stato importante nella gestione del lockdown delle scuole e delle fabbriche, per esempio. E l'ultima, le disuguaglianze di genere, generazionali e territoriali. L'Emilia-Romagna è un luogo in cui si sta ancora bene, è un luogo in cui c'è un tasso di disoccupazione al 5,5%, ma non è sufficiente. Occorre un lavoro, un lavoro, lavorare molto sull'occupazione, un lavoro di qualità, di qualità, un lavoro che sia democratico, accessibile a tutti, alle donne, ai giovani, che sono comunque ancora delle fasce svantaggiate. Anche nella nostra regione c'è molta disoccupazione, molta precarietà in questi due ambiti. L'ultimo accenno importante, il diritto alla salute. Nel nuovo patto per il lavoro e per il clima c'è una sottolineatura importante sulla gestione e governance pubblica del sistema sociosanitario, così come, altrettanto importante, la governance dei licenziamenti, chiamiamo così, dei collettivi, che purtroppo hanno interessato e continueranno a tratti a interessare la nostra regione licenziamenti che, secondo quanto definito nel patto, dovranno essere, non potranno essere unilaterali, quindi solo, diciamo, per decisione aziendale, ma dovranno comunque seguire delle procedure di confronto e l'esperimento di tutti gli ammortizzatori sociali per mantenere, salvaguardare i livelli occupazionali e i posti di lavoro. Nel salutarvi, vi ricordiamo che per domande e suggerimenti sugli argomenti da trattare potete scrivere all'indirizzo mail mediasp chiocciolacigelleparma.it Arrivederci alla prossima puntata. Tutto il bene del mondo oltre il ponte oltre il ponte